Tanta paura ed un lieto fine, questi gli elementi di una storia che ha visto protagonisti da un lato un bambino di soli sei anni e dall'altro i carabinieri della stazione di Polistena. Il papà, estremamente impaurito, dopo essere stato allertato dalla ex coniuge, ha contattato la centrale operativa dei carabinieri tramite il numero di emergenza 112, riferendo all'armato che il proprio bambino di soli sei anni si era allontanato da casa, aprendo da solo la porta e facendo perdere le sue tracce. L'operatore di centrale, al fine di consentire il rintraccio tempestivo del minore, avuta la descrizione del bambino, ha immediatamente avviato il coordinamento delle ricerche della locale stazione carabinieri, partendo proprio dall'abitazione di residenza e dalle vie limitrofe. Dopo aver rintracciato il minore ad oltre un chilometro dalla propria dimora, accasciato a terra ed in evidente stato di agitazione, i militari hanno contattato immediatamente i genitori, i quali poco dopo si sono recati sul posto ringraziando i carabinieri.